ciao amici oggi prepareremo i voltini di pollo ecco la ricetta ecco gli ingredienti pangrattato pollo formaggio prosciutto e un uovo spattiamo mettiamo il pollo nell'uovo e poi nel prangrattato con te ogni problema si volta il formaggio e poi il posto sento che mai niente niente cambierà quel che sento volevo solo dirti che rimango accanto a te che ogni cosa ti appartiene anche ciò che non mi conviene volevo solo dirti che mai niente ci ha diviso che ogni sbaglio io l'ho amato e ogni cosa è per te zero passi da te che si parte di me quando sto con te ogni problema si volta conosci la scena zero passi da te che si parte di me sento che mai niente 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 ho messo l'olio alla pendola e mettiamo gli voltini volevi fulmini e tempesta allora me la cavo se la pioggia per 20 minuti e questo lo mettiamo dentro tanto tutto ciclico e ogni macchina si riduce a una sera io sulle mie tapparelle che il sole mitraglia di luce fame chi mi capisce cerco nel letto la tua pelle proteggimi dal tempo che passa ho la sindrome da peter pandistelle io devo leggo me la carne forte come la verdura ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura io rimango fino a quando non ha certo è pronto non le luci e i bicchieri abbandonati Buona seri qui si che non si t ti mi mi non Comella!